musica bella a tutti ragazzi da demax 1010 e eccoci nel nuovo episodio di life for dead 2, il primo sarebbe inizio la campagna e poi qualche volta quando ci saranno degli amici che giocano a questo gioco online farò delle partite con loro facciamo partita veloce campagna intanto metto le cuffie così sento qui siamo io vabbè toni che sei il personaggio normale e avenger e lite e poi non lo so perchè se è già iniziata non fate farla perchè voglio farla di inizio mi è già iniziata e che sto per terra niente proprio non ha capito niente questo gioco campagna c'è il singolo puoi fare il singolo da solo gioca singolo centro di morte hotel difficoltà normale avvia partita perchè non c'ho mai giocato quindi facciamo una partita normale classica che be' questa è la prima volta che gioco a life for dead ma io sape pure come questo gioco questo gioco un cavolo ferimento iniziamo ecco qua c'è un cavolo e il c'è non c'è non c'è l'audio non c'è tutto allora prendiamo tanto un kit medico pistola a secondaria chi se poi iniziano da giù come ho fatto questi? venite cani? guardateci quanto la migliore è deciso non c'è tutto pronti? credo una via qui c'è il boomer perchè mi dici se non sparare i compagni io ti faccio un colpo solo, neanche è passato in mezzo vedi? è sempre in mezzo non va bene, non va bene è il boomer come vorrei se chiami così non l'ho spiegato ok i pistola hanno munizioni delimitate non si apre di porta, perfetto vedi lui ci persino mi fa passare prendiamo tanto due rifiuti è morto, quella di stava dentro al muro lo stava facendo con il muro oddio se la stava facendo con il muro è morto ok ragazzi prendo il bire del boomer che dovrebbe essere una specie di granata tipo scimmietta su quello di lì oddio ma chi è questo? sono malato oddio no chi è se sto ciccione no? oddio 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 che vuoi che ti bombi di me cacchio? ma è vero oddio che il boomer è tra l'orda oddio chi? si no non il e ma il t tratta Shore americola oddio ho fatto una faccia schifosa ora ho fatto una faccia schifosa dai non mi nascondi ok andiamo la manda qua fino a chiuso magari erano ma sempre a me mi esplode sto volto oddio ok ok aspetta la gamba inti la gamba che ha fatto malato mentale ehi attento mi spaventare mi spaventare problemi oddio si 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 mi sto curando oh oh che è un briago 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 ma posso fare la stessa stanza solo quello senza luce vabbè grande coach luce dov'è i se stuvi ok se stuvi ok se stuvi giudicato sto giudicato tu ci metti a scendere ehi oddio questo fumo non sei più una cipaz io salto salto qui per far levare un po' l'attenzione dove si apre adesso oddio 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 ecco li capiamo stanno bene oh my god non si vede niente ragazzi io salto io salto io salto io salto non mi faccio finire quello mi salto non mi sento andato avanti ma poi col cavo che c'è la culpa roda roda porca miseria salì una porta bene che è sta cosa oddio scappa scappa che sto morendo oddio oddio che è questo bisogna andare a la il 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 s il il mu s il il FUF un arte che avrò fatto Entrate entrate non chiudete ma che bello e il primo l'abbiamo fatto vabbè facciamo anche la seconda parte facciamo anche la seconda parte oh 67 sono il primo ho ucciso 4 infettati speciali verrà che saranno male però sono venuti per uccidere molti nemici con un solo colpa vabbè insieme i cinghiali con un copo ai bersagli troppo tu lo se sapeva se non i davano infettamente non aprire 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 ma è che schifo mi schifo di suono che ho sentito io avrò qui aperto non ho niente oh yes ancora la bille del boomer di prima io scappa non piace per niente il sonno della usi non è sopra trevo oh voglio rispingere questa madre voleva e che dove sono andata a me ma rispingi si sono schifoso che roba ragazzi troppo forte perchè ricorda difficoltà sempre normale quindi oddio ci sono perci 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 perciò 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 si posturano qui ciò questo perciò 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 giudici 2 prima prende questa è morto non lo sapevo non lo sapevo che disegnava qua non c'è la witch e qui ti levati oddio boom è entrato dentro ragazzi è entrato dentro vedi 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 merda vedi si vera pure pesanti per ricordare a vita oddio eccolo oddio oddio che parte qua questa barriera lì si può saltare qui c'è qui oddio guarda deve riprovarsi o ok non ci credo guarda 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 stupendo cosa si vede che sto ricaricando in mezzo dell'orda di zombie ricarico? ovvio no? come una qualsiasi persona comune in mezzo a un'orda di zombie ricarico andiamo che è questo? questo è pillola o no? vi ho detto che lo vedo che cos'è? che cos'è? tutti ammigliati a me cacchio non vedete sta roba boh boh c'è schifo mamma mia che schifo che schifo merda ora che no? la bide del boom o la bide del boom bene ora apriamo il first aid ah qui ci sta in mezzo c'è la k la k con questa terra no non c'è ci dovrebbe stare una di quei cosi enormi no non c'è no su questa zona così carne dovrebbe arrivare con gli affari enormi mi ricordo ma come si chiamano ahhh vabbè eccolo uno no non è vero c'è stato il boom di qui beh la bide del boom la bide del boom c'è stato il boom e come salgo vabbè niente a ro rem r r oddio mamma mia Eccolo, è tutto dove c'è stava. Scusa, ho già sbagliato. Pensavo che me dovete scoppiare. Io mi riguro. Bello il pompa, regà. Sì, sono morti. Ecco, speriamo quello che penso. Boom, regà. Boom. Paxirello. Qui che prendo è un outshot, che non mi ha di provarlo. Ho un outshot, quello che ha di arraffiato in mezzo. Vedo che ho fatto. Magno che poi la desertico. Io voglio provare le scaracca. Non mi ha provato. Sparate contro la cappella. Non mi piace... Non mi piace. raffino no, il Mineralassa ho preso il Mineralassa però il proprietario della negociata non è che? vedete dove abbiamo fatto ok, perfetto qui mi chiede a distruggerò la cisterna, bisogna appuntare con la cosa qui bisogna che qualcuno mi copre l'ho ii vedi tu fai di a volte oddio scappa 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 corri 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 prendi la cocagola oddio non posso passare da qua correte no voce di me faccia la bocca vada lassate perchè perchè oh proteggetemi oddio oddio ma che scada oddio qua lo scroll vai vai vabbè sta normale che normale no 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 zumbino E' un malino che ho portato dentro Ecco, guarda, ero lì Cosa? Voglio vedere le pazzite di Coca-Cola Vabbè Ok, non posso sparare Tu vuoi qua? Che c'è qua? Dio, c'è che era una witch Non prende un infarto Dai Vada, Eva C'è Eva Oddio, 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 Oddio Oh no Venga Bravo coach Ah si prende una molotov, ora tubo bomba, tubo bomba o meglio, aspetta di scopla, tubo bomba. Io non ti so, non ti mettere in mezzo tu, non ti mettere in mezzo, vedi io non ti sparo? Mi sembra, non ti so, 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 non ti so. Ah questo è il boomer, che schifo! Oh no, non ti so, non ti so, non ti so. Uppu, che cosa l'ha fatto, ha perforato una cosa, non abbiamo pure quello che sentire adesso. Poi vado a prendere l'acchietto medico L'acchietto medico L'acchietto medico L'acchietto medico Ricarico L'acchietto medico Dentro Sì E anche questa è finita E vai Ah, penso che oggi posso abbastare Mettete mi piace, mi raccomando di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto Lasciate un pollicino in su Va bene Bella a tutti ragazzi e al prossimo video